ciao ragazze e ragazze vi volevo mostrare due cosine di wicom allora uno è questo lo zero il 20 ed è questo colore meraviglioso secondo me ed è una tinta labbra molto molto estiva guardavo se è una diversa parecchio un po diversa non è e poi di wicom e poi una tinta labbra sempre di un altro di questa collezione questo colore qua molto carino scuro ma non è così scuro è diverso come al solito ormai questa è la variante numero numero 0 6 con un altro prodotto che io ho acquistato due matite labbra in modo da poterle utilizzare una questa questa è la numero 23 e l'altra è questa la numero 21 con questi prodotti in questi termini erano mangio e mi hanno scegliete voi un rossetto che vi piace di quelli che vi dicono loro è il numero e 121 ed è questo è un packaging così classico mi piace tantissimo me lo sguaccio comunque anche se lo vedete a me piacciono insomma questi colori e nulla questo è il mio il mio shopping di che vi ho voluto mostrare di wicon vi mando un bacione grande ciao buona serata vi mando un bacione grande